Il Consiglio dei Ministri, il Presidente Meloni ed io abbiamo ricordato la figura di Silvio Berlusconi, che è l'uomo che più a lungo di ogni altro durante l'Italia Repubblicana ha guidato il governo di questo Paese. È stata ricordata la sua visione politica, sono stati ricordati i risultati importanti che ha ottenuto con i suoi governi, è stato ricordato il suo ruolo di fondatore del centrodestra nel nostro Paese e ha voluto ricordare in modo particolare gli aspetti umani di Berlusconi, Presidente del Consiglio, che metteva sempre ogni persona al centro della sua attenzione qualunque fosse il ruolo di questa persona. Ho ricordato l'incontro con il Consiglio di Fabbrica della Gilera a casa sua ad Arcore. I Berlusconi della Gilera trattati come gli ospiti che per il resto del mondo erano importantissimi. Per lui anche il Consiglio di Fabbrica della Gilera era importante come Ministri, Presidente del Consiglio, Autorità. Ricordo quando fuori di Palazzo Chigi c'erano i minatori del sulci siglesiente perché stavano chiudendo le miniere e lui contro l'opinione di tutti, che temevano chissà che cosa accadesse che il Presidente del Consiglio andasse in mezzo ai minatori in fermento, lui andò in mezzo ai minatori da solo a parlare, a ascoltare i loro problemi e aiutò quei minatori del sulci siglesiente con lo stesso spirito con il quale dopo un giro a Bari Vecchia, e Bari Vecchia dell'ora non era Bari Vecchia di oggi, si soffermò con alcune signore che in barese stretto stentavamo a capire quello che dicevano, però ci facevano capire che non si poteva vivere con 200 mila lire al mese, e lui uscendo da uno di quei bassi, promise a quelle signore che avrebbe aumentato le pensioni minime fino a un milione di lire al mese, detto, fatto. Come abbiamo ricordato la tanta beneficenza che ha fatto, spesso sconosciuta, in confronti degli ultimi della società, comunità di recupero di tossicodipendenti, di alcolisti, pensiamo alla realizzazione dei centri di Don Gelmini in Thailandia, oppure aiuti a comunità di tossicodipendenti anche in questa regione, cose che non si sanno, ma che denotavano il Presidente del Consiglio che guardava la persona, senza grado, senza importanza, ma la persona. Per lui ognuno di questi era importante. Ecco, ho voluto ricordare l'umanità di questo uomo che si è battuto sempre per gli ideali nei quali credeva che che possano dirne i detrattori. E uno di questi ideali era la giustizia giusta per ogni cittadino che potesse essere giudicato con le regole e con le garanzie che in una democrazia spettano ad ognuno di noi. Sarebbe soddisfatto se potesse essere qui ad ascoltare le parole del Ministro Nordio per quanto riguarda le decisioni adottate dal Consiglio dei Ministri in materia di diritto penale. La parola al Ministro Nordio, grazie.